ma il colmo non aver portato dietro anch'io non c'ho dietro un dado figaro e quando la fiera? la fiera è quella che dura una settimana ma domenica non va in moto andiamo su Paoli che si compra i coltelli deve essere da lunga sì però forse ci basta dovrebbe arrivare però dietro c'è il ahahahah lo poniamo tutti e stiamo a fare il caffè un caffè un caffè al muro che qua è la brugola? non è che ha la brugola una brugolina una vita con la testa a brugola e gli mettiamo questa che è più forte porta via quella vecchia che poi a casa la saldi la tiene di scorta è la sua per quello che si è rotta sono tutti 8, 10, 12 e basta eh non c'è dentro nient'altro eh non l'aveva preso ho preso una pancetta sono grandi così no? e te sei un po' di grasso chi è che c'è di grasso? ha paura di strappare l'alluminio se tira fuori la fina dell'olio diventa un po' di olio se t'è posto qua abbiamo quasi finito eh oh team 2 avete finito? quasi ci siamo eh grugola dammi quella pizza che usiamo per il giallo con il giallo che io mi guardo ahahahahah c'è lì ancora più macanier grazie ma è che arrivano i pedoni eh grazie ci sono hai salita non puoi spogare il freno si all'interno c'era una rondellina bravo un rosamentino con un garattino ma che ce n'è lì una uguale lì? ma che ce n'è lì una uguale lì? e che il mio carro li trovo di più io eh ma che cos'è lì? ma che cos'è lì? si 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 ma quella lì è una terra ma quella lì è una... eh sì sicuramente dove è caduta c'era lì anche quella lì non c'era lì ma è bello che il panchetti non c'era lì perché non mi ricordo la più non è tanto lì ma non mi ricordo la più allora ho tirato un suore ho fatto volerla il bisma ce le ha ah ma ti dice premana? premana lei ragazzo io la assumo lì fuori eh te la posso dare dopo la brugola? tieni così almeno ogni tanto mi fermo la perché avendo la su la devo lasciare molle ti preoccupare a posto? ricordamelo però ma va scorda una brugola ascoltami perché non è in giro di smira eh ma c'è dietro l'inverossibile eh però vedi se ti succede qualcosa che cacchio fai? rompi via davvero rompi via del tutto la leva che cacchio è un ciulato sei fuori dal mondo oh ancora ciao aspetta ciao mettili il dito no io la scena una maniglia la maniglia la maniglia tu vuoi tirare lì ma vieni che prendo l'infortunio si alza la cazzo che ha la maniglia che c'è la maniglia? che c'è la maniglia? vuoi che ce l'abbia la maniglia? stai lì della te no stai lì stai lì la maniglia stai lì io cominciò a rifare stai tieni la bottiglia come fanno i cinese tieni la bottiglia che io provo a tagliarla in mezzo e lì già è più sicuro lo dico a Spampi Spampi! tieni la bottiglia così che io la taglio in mezzo a vedere se taglia bene vai posso fargli dentro i quadratini? mi ha passato via uno ma non è la mia ma non è la mia Diego mi ha guardato fa il cazzo il tuo bottiglio ma dovete che roba ma cosa stai raccontando che sto filmando che schifo cazzo va spegni 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 spegni